macchina ferma macchina ferma macchina ferma signore signor Coors alla parecasse d'immersione hotel va dal termografo ci trovi un po' di freddo camera manovra 5 gradi a 270 piedi una massa d'acqua fredda via le onde sonore nel caso dovessero decidere di ahhh 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 Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.